Le sorelline Carisi hanno fatto arrabbiare papà Albano? Ecco quanto si vocifera sul web dopo i loro ultimi post sui social Romina Carisi e sua sorella Christel si scatenano sul web e mandano in delirio i fans Cosa avranno fatto le belle e sorelle Carisi per scatenare tanti commenti e like su Instagram? Romina Junior, la figlia più piccola di Albano e Romina Pover, è sempre molta attiva sui social Spesso la bella Romina pubblica immagini e storie sul suo profilo Instagram e riscontra sempre notevole successo tra i fans Anche questa volta Romina ha pubblicato qualcosa che ha lasciato tutti a bocca aperta Romina e Christel Carisi scatenate sul web.Romina Carisi ha pubblicato sul web una foto veramente molto sexy, in cui è in una posa mozzafiato Lo scatto è stata molto apprezzata dai followers, che hanno molto gradito.Tantissimi sono stati i like ed i commenti La figlia di Albano e Romina nella foto in questione succhia un ghiacciolo in posa provocante, indossa un paio di calze a rete, un body nero, e un giacchino corto Qualche fan si chiede, cosa penserà papà Albano di questa foto provocante e sensuale Christeli la promessa sul web.ma Romina non è l'unica delle figlie di Albano e Romina Pover a scatenare il web Proprio di recente, infatti Christel ha pubblicato una storie sul suo profilo Instagram in cui fa una promessa ai suoi followers Christel Carisi sta versando del miele su un pancake, e la promessa che fa ai suoi fan, è che quel pancake sarebbe stato davvero l'ultimo, chissà sarà davvero l'ultimo Sono davvero difficili da resistere. In fondo tutti abbiamo dei peccati, quelli di Gola accomunano tantissime persone Albano si arrabbiera per questi post. Speriamo di no. Sappiamo tutti quanto tenga alle sue figlie e sicuramente non basta una coscia un nuda e un peccato confessato a farlo salire su tutte le furie Grazie per la visione